benvenuti eccoci di nuovo avere un'altra pillola sull'uso di microsoft word io sono roberto e se non l'avete già fatto vi invito a venire iscrivervi sul nostro canale quindi cliccate sul bottone iscriviti e sulla campanellina per rimanere aggiornato con i nostri video allora eccoci qui sul nostro documento word cosa andiamo a fare oggi oggi andiamo a creare un sommario come vi anticipavo e per farlo dobbiamo impostare prima i titoli e la logia archia abbiamo un documento diviso in vari paragrafi preceduti da un titolo quindi vado a selezionare il titolo che voglio modificare e gli do uno stile fra quelli che word mi propone come predefiniti vedete titolo 1 titolo sottotitolo enfasi del titolo ok questi sono tutti degli stili che non sono semplicemente degli stili visivi ma danno anche un'altra impostazione a word gli danno un'indicazione per riconosce il tipo di titolo e la loro gerarchia in questo caso sono tutti dei titolo 1 pertanto gli andiamo a impostare tutti uguale quindi finiamoli di selezionare dopodiché ciò che ci resta da fare è semplicemente trovare la voce corretta quindi torniamo all'inizio dove vogliamo posizionare sommario prima dei contenuti e come al solito abbiamo le nostre schede del menu di word quindi le scorriamo fino ad arrivare alla scheda riferimenti il primo bottone in alta a sinistra è quello del sommario cliccando sul sommario vedete appaiono le varie opportunità quindi in questo caso ci fa benissimo la creazione automatica che ci propone clicchiamo ed ecco che word ha inserito il sommario con i titoli dei paragrafi e la pagina a cui questi si trovano e l'ha fatto totalmente in autonomia con i titoli dei paragrafi e la pagina a cui io faccio il sommario